Qual è la prima cosa che ricordi? Il fuoco. Come ti chiami? Kristen. Benvenuta al reparto. La tua nuova casa. Perché sono... Non riuscirai a farti dire niente da loro. A volte portano via le ragazze e non tornano più. Fossi in te farei molta attenzione. C'è una presenza qui. Sono certo che tu abbia visto quello che dici. Io non sono pazza. È l'ultima di noi che è uscita da qui. Era una di noi, ma se n'è andata ora. Ritornerà per ucciderci tutte. Dobbiamo andarcene da qui. No! La camicia di forza. No! Non è stato poi così terribile. No! No! Grazie a tutti.